Ciao ragazzi, dopo le vostre richieste ho deciso finalmente di parlare di Photoshop e vedere insieme le migliori funzioni per modificare le fotografie. Prima di iniziare però mi presento, il mio nome è Edoardo Renati e do una missione, imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e ovviamente poi condividerla con te. Ma torniamo a noi, cos'ha il Photoshop e in che modo può migliorare il nostro lavoro. Photoshop è uno dei migliori software di fotoritocco e permette di ottenere risultati professionali e a volte anche molto complessi. Tuttavia però è un software che se imparato a dovere diventa anche molto semplice da usare. Quindi anche se non avessi mai usato Photoshop, non preoccuparti. Le cose che vedremo infatti saranno facilmente riproducibili. Ma non perdiamo tempo, cosa impareremo a fare in questo video? In questo video vedremo come rimuovere degli elementi da una fotografia. E' presente quando all'interno di una foto trovi delle persone o delle cose che non dovrebbero essere lì? Ecco, in questo video impareremo come rimuovere quegli elementi che non dovrebbero trovarsi all'interno della fotografia che vorremmo in qualche modo eliminare per rendere la nostra fotografia ancora più bella. Qualche esempio? Togliamo il cane, via le persone, niente papera, eccetera, eccetera. Non perdiamo altro tempo e iniziamo. Per prima cosa ovviamente apriamo Photoshop. Io in questo caso ho la versione 2020. Se tu avessi una versione diversa non cambia comunque niente. Ovviamente quelle che sono le impostazioni sono comunque rimaste uguali. Qualcuno ha qualcosa di più, qualcosa di meno. Però tendenzialmente le impostazioni principali, soprattutto che vediamo in questo video, saranno accessibili da tutte le versioni di Photoshop. Apriamo Photoshop e andiamo anche a prendere le fotografie che intendiamo modificare. Io per l'occasione ho preparato queste tre foto, ovvero due cagnolini, due ragazzi che corrono e una papera. Direi di partire dalla papera che è la foto più semplice ad andare a sistemare. Allora, l'apriamo. Come facciamo ad aprirla? La prendo, la metto in Photoshop. Ok. Vediamo se si apre. Perfetto. A questo punto, io qui ho una versione di Photoshop. Tra l'altro dalle impostazioni di finestra si può cambiare area di lavoro, essenziale 3D, pittura. In realtà anche la visualizzazione essenziale ha comunque tutte le proprietà base che ci servono. Allora, cosa facciamo? Per chi non conoscesse Photoshop, questa parte di sinistra comprende la parte degli strumenti base che Photoshop mette a disposizione. Ora parto zoomando, quindi clicco sulla lente e clicco qua facendo zoom. Considera che col mouse se tengo premuto io zoom, ok? Se sposto il mouse verso destra ho uno zoom. Se invece sposto il mouse, clicco e sposto il mouse verso sinistra ho uno zoom indietro. Comunque, eccolo qua. Ora cosa facciamo? Dobbiamo andare a rimuovere questa papera dal nostro sfondo. Quindi per prima cosa vado qua e sblocco il livello. Cosa faccio? Faccio un doppio clic sul lucchetto, ok? E il mio livello si sblocca. Dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere un elemento ben preciso che si chiama timbro clone, che è questo qui. Clicchiamo. Ecco, se tieni premuto vedrai che c'è timbro clone e timbro con pattern. In questo video usiamo il timbro clone normale. Ora come funziona il timbro clone? Il timbro clone ha la grande proprietà, diciamo, e potenzialità di andare a campionare una parte, in questo caso di fotografia, quindi nel nostro caso di terreno, e possiamo praticamente campionarla e ricopiarla. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io adesso vado a copiare, faccio vedere una prova, dopo ti spiego come, vado a copiare questo sasso, io posso, vedi, spostare questo sasso dove più mi pare piace. Quindi lo voglio mettere qui, clicco qui, e il mio sasso compare. Vedi che tra l'altro devo cliccare anche più volte per ripeterlo in maniera uguale, perché comunque va, diciamo, a copiare e a incollare in maniera un pochino più delicata, permettendomi così di andare appunto a creare un più o meno cambiamento. Ovviamente è il nostro caso perché ti sto raccontando questa cosa del sasso, perché io quello che voglio fare in questa foto è andare a prendere la parte di terreno e metterla al posto della papera. Partiamo dal presupposto, attenzione, che non possiamo cancellare un elemento come se fosse una gomma, ok? Usando uno strumento gomma, perché così facendo avremmo uno sfondo bianco, quindi sarebbe inutile. La cosa che si deve fare ovviamente è andare a ricreare a livello quasi immaginario, perché giustamente non possiamo sapere cosa c'è dietro questa papera, ma ipotizziamo esserci ovviamente anche qui una parte di terreno, esattamente come quella che c'è prima e dopo appunto la nostra amata papera. Cosa faccio allora? Vado a prendere il tingo a colore e vado a copiare una parte di terreno più o meno simile a questa e la vado a mettere proprio al posto della papera. Ora, attenzione, questo strumento ha praticamente un cerchio, ok? Il cerchio è la parte che va a campionare e a copiare e a incollare, ok? Come noterai, il cerchio è piccolino, quindi dovrei campionare una serie di pezzettini e diventere un po' matto. Qua sopra, ok, abbiamo la possibilità di ingrandire il pennello. Vedi che già ora è più grande, se lo ingrandisco ancora di più è ancora più grande. Direi che un cerchio di questa dimensione può essere comodo. Qui ho addirittura la durezza del pennello che può essere più o meno, diciamo, intensa. Io ti consiglio di tenerlo allo 0%, così almeno abbiamo un pennello morbido e possiamo fare, diciamo, delle modifiche un attimino più delicate. Ecco, abbiamo una correzione maggiore, una possibilità di correzione maggiore. Cosa facciamo? Ora, utilizzando il tasto Option, ok, del, se hai un computer make option, altrimenti il tasto Alt, in un computer Windows, noterai che dal nostro cerchio spunta questa parte, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che io ora in questo caso vado a campionare una parte di terreno. Ovviamente, se io clicco in questo punto esatto, l'area che lui mi campiona è ovviamente pari al mio cerchio. Ok, quindi clicchiamo col tasto sinistro, ok, del mouse, del clic normale, tenendo premuto Option, ok? Ora, mollando, noterai che questa parte di terreno si sposta insieme a me. E quindi cosa succede? Succede che io questa parte che ho appena campionato qua, premendo Alt, vado a portarla qui. Quindi se io clicco una volta, vedi che la papera inizia a colorarsi. Quindi cosa faccio? Clicco più volte e inizia, diciamo, a spostarsi in maniera più ampia. Ora, il consiglio è quello di campionare più parti del terreno, tipo ora campiono questa parte qui e vado a, anche qui, spostare qui. Perché campiono parti diverse? Campiono parti diverse perché, ovviamente, il terreno non potrebbe essere tutto di questo colore, ok? Qua sopra vedi che il terreno è un pochino più scuro, un po' più chiaro. Quindi vado a campionare un'area, che può essere anche questa, un pochino, che potrebbe, diciamo, associarsi bene. E vado a campionare queste parti attorno e vado, ovviamente, a cliccare fino a che la papera sparisce, ok? Posso anche tenere premuto il mouse in automatico. Se io clicco e campiono con l'Alte, tenendo premuto il tasto Alto o Option, questa parte, io qui posso cliccare, ok? Tenendo premuto posso spostarmi in automatico, vedi che qui a destra c'è una sorta di crocetta. Cosa fa questa crocetta? Va man mano a spostarsi nella parte campionata. Attenzione perché se io esco dal documento, in questo caso non campiono più niente, quindi devo rientrare e scendere fino a far sparire del tutto il mio soggetto. Ok, ora magari vediamo un esempio un pochino più complesso di questo, per entrare ancora un po' più nel vivo di questo strumento chiamato Timbro Clone. Salvo la mia foto, quindi vado in File, in File, salva con nome, e vado a salvare questo background, giustatamente. Arrivato in formato JPEG e la chiamo Foto1. Va bene, salva, salva. Cosa succederà? Succederà che in questo punto io ho la papera prima e la papera dopo. Vedi che è sparita? Perfetto. Andiamo a fare un esempio un pochino più complicato, tipo questo qua. Quindi il cagnolino lo prendo e lo metto qui. In questo caso, a differenza di prima, non abbiamo più uno sfondo così omogeneo, o meglio, ce l'abbiamo perché comunque il prato, anche se qui è più definito e qui è meno definito, cioè è più visibile e qui è un pochino più sfocato, ma ipotizzando di voler togliere solo un cane, quindi questo qua sotto, dovremo andare a mettere in sicurezza il primo cagnolino, questo qui che sto giocando. Quindi cosa facciamo? Andiamo prima di utilizzare il nostro timbro clone, perché dobbiamo mettere in sicurezza, attenzione, perché se io adesso andassi a prendere il timbro clone, quindi clicco qua, e vado a campionare, non so, una parte qui vicina, e poi vado a passarlo qui, anche se riuscisse a togliere il mio cagnolino, anche quell'altro rischierebbe di fare, diciamo, essere rovinato. Attenzione perché se anche tu ti trovassi in una posizione, o comunque in una situazione come questa, dove fai danno, perché comunque il danno è parte del gioco per imparare, puoi cliccare Ctrl Z da Windows, oppure Command Z da Mac, per appunto tornare indietro, e eventualmente andare anche in modifica, annulla. Ok, in questo caso io ho già fatto i miei bei danni, quindi ho già annullato tutto, quindi facciamo fin di essere anche qui, vado in modifica, annulla, in questo caso mi riconosce già che il timbro clone, cliccando qua mi annulla. Posso fare più volte questo annulla per tornare indietro, qualora avessi fatto più errori. Quindi dicevamo, dobbiamo mettere in sicurezza questo cagnolino. Come facciamo? Allora, dobbiamo andare a selezionare, quindi fare una selezione, molto molto semplice in questo caso, dell'area che vogliamo modificare. Quindi io andrò a selezionare quella parte che comprende il cagnolino secondo, ok? E va praticamente a escludere il primo cagnolino. Cosa facciamo? Vado praticamente a usare lo strumento chiamato lazzo poligonale, quindi se non dovresti averlo qui subito, tieni premuto il tasto sinistro dal mouse e vai fino all'azzo poligonale. E in questo caso vedrai che c'è una freccettina con questa bell'iconcina che è appunto l'icona del lazzo poligonale. Cosa facciamo? Andiamo praticamente qui, ok? Tenere a fare praticamente dei punti, vedrai che se clicchi col mouse esce questa sorta di linea, e qui praticamente vai cliccando più volte a fare il contorno della coda, ok, del cagnolino, scendiamo lungo la zampa, ok, e qui possiamo anche stare un po' nell'erba. Cosa sto facendo? Io sto facendo, posso uscire dalla foto, sto facendo una selezione, ok, della parte che intendo modificare. Cosa vuol dire? Vuol dire che ora, quando finirò, adesso infatti faccio il doppio clic e chiudo la selezione, ora quello che io andrò a fare col timbro clone, quindi questo strumento che abbiamo usato anche prima, rimarrà praticamente all'interno della selezione. Qualora io infatti provassi a campionare una parte interna e a metterla fuori, vedi che non succede niente, non succede niente perché io non posso agire su tutto ciò che è fuori dalla mia selezione. Perciò, cosa facciamo? Allora, magari in questo caso vado a rimpicciolire un po' il timbro clone, quindi a posto di 101, lo sposto a 60, o anche qualcosa di niente, 47, perfetto. Campiono un'area, il mio consiglio è quello di, diciamo, non campionare un'area qui, per andare poi a metterla qui, perché giustamente quel verde che c'è qua sopra, qua sotto, diciamo che vedi che non va a omogenizzarsi, quindi modifica, annulla. Ma andiamo magari a campionare in questo caso, vediamo che ci sono delle fasce, qua è più giallino, qua è un po' verdino, ma non è definito, qua è più definito. Quindi, in realtà il mio consiglio è quello di campionare da destra e andare verso sinistra. Mi spiego meglio. Io tengo premuto Alt, o Option, da Make, nel mio caso. Campiono questa parte, ok? E man mano mi sposto verso sinistra, ok? Attenzione perché quando, diciamo, se campioniamo in una parte troppo vicina al nostro cagnolino e ci andiamo a spostare, la nostra freccetta va praticamente a ripetere sempre lo stesso elemento. Quindi è buona cosa cliccare più volte, ok? In aree vicine, clicco e copio, clicco e copio, per andare appunto a creare una superficie più omogenea possibile. Ok? Clicco e copio. Tengo premuto Alt, clicco, mollo Alt e incollo. Così facendo vado praticamente, adesso lo vedo, sto facendo abbastanza velocemente, chiaro, però vado praticamente a creare una parte, ok, di Prato, che non c'era, ovviamente, e vado tipo come qui, ok, a passare anche sopra la coda del mio secondo cagnolo, perché tanto, tanto non farò nulla. Quindi in realtà io agirò solo all'interno della selezione che abbiamo fatto prima. Quindi se ora vado sul zoom e torno indietro, vediamo che si è creata un'omogeneità maggiore. Poi posso comunque andare a copiare, incollare ancora un po' di parti, ok? Attenzione perché non posso agire fuori, ma se copio un elemento fuori, come in questo caso, il giochino che è in bocca, posso copiarlo all'interno. Quindi mi rendo conto che è un pochino complicata come operazione. Però ti consiglio proprio di fare molta, molta esperienza e divertirti appunto col timbro clone, finché appunto non imparerai a usarlo bene, perché allora a quel punto diventerà veramente molto molto più divertente la faccenda. Ora, quando ho finito di togliere appunto il mio cagnolino, andiamo in selezione, deselezione, e così facendo abbiamo tolto il nostro amico quadrondante. Ora, come vedrai, io ho fatto un po' di diciamo casino qui nella parte diciamo del del background, perché l'ho fatto un po' velocemente. In questo caso posso comunque prendere il timbro clone, copiare, incollare dei pezzettini e andare un pochino a sistemare questa parte di prato, per diciamo rendere il tutto un pochino più omogeneo, un pochino più, diciamo per nascondere il lavoro fatto. Ora vediamo l'ultimissima foto, così da fare ancora un esempio aggiuntivo. Quindi andiamo a prendere l'ultima foto, che è questa qui, la apro in Photoshop. Ora, questa foto qua è un attimino più complessa, perché? Zoomiamo, ok, perché in questo caso abbiamo, ipotizziamo di togliere lui, abbiamo anche qui una parte esterna, una parte interna che la scala, poi tanto da una parte c'è il rosa, da una parte c'è il viola. Qui può essere più o meno complessa la faccenda, ovvero, ecco attenzione, doppio clic sul livello e lo sblocco. Vado a prendere il lazzo poligonale, che è questo qui, ok, e vado anche in questo caso a fare la selezione della parte, diciamo, qui a destra, quindi del nostro ragazzo, che vogliamo appunto togliere. Selezioniamo qua, io qua cosa vado a fare? Vado praticamente a scendere, comprendo anche l'ombra, perfetto, magari prendo anche tutta questa selezione, qui, vedo che tanto male non lo fa, doppio clic, e vado anche qui a prendere il timbro clone, ottimo, e a campionare la parte di destra, che può intendere portare verso sinistra, ok? Posso anche tenere premuto, in questo caso viene molto facile, ok, perfetto. attenzione però che man mano che ci avviciniamo a questa sorta di, diciamo, di divisione tra rosa e viola, ho questo elemento, ora, questo elemento, voglio che io questa striscia, la ritrovo anche qui dietro, perciò cosa faccio? Tengo premuto Alt, o Option, se hai Mac, o Alt, se hai Windows, o non mi manderai a quel paese, ma per sicurezza lo ripeto sempre, e vado praticamente a cliccare su una parte di questa sorta di, diciamo, cornicione che vogliamo ripetere tipo qui, così facendo quando io mollo vedo che ho questo cornicione che mi segue perché ovviamente ho campionato la parte del cornicione, clicco e la porto qui, tengo premuto, mi sposto su e mi sposto giù e vado praticamente a riprendere la parte in maniera perfetta in quanto avendo cliccato sul cornicione io vado a spostarmi esattamente in linea e vado praticamente a colorare su e giù esattamente allo stesso livello. Ora, selezione, deseleziono, ci spostiamo, ecco, se tieni per trovare la spazzettrice esce questa manina che ti permette di spostarti, vado a riprendere il mio lazzo poligonale, lazzo poligonale e vado a togliere anche questa scarpetta rimasta qui, magari qui vado anche a filo dal cornicione timbro clone option o alt e vado a togliere questa parte vedi che qui anche se io sforo vado sul cornicione non me lo fa modificare perché ovviamente la parte che posso modificare è solo questa vedi che infatti se io mi avvicino qui io per un attimo ho la freccettina che va a prendere la gamba e va ovviamente a ripetermela qui insomma clicco fuori e vado a richiudere selezione deselezione ultima parte vedi che in questo caso non è così diciamo fatto bene il fondo perché c'è uno stacco che è dato dalla selezione io che posso andare a rimpicciolire il pennellino il timbro clone e andare a riprendere queste parti diciamo di confine ok in maniera delicata ma così da andare a togliere questo stacco ora vado a togliere quest'ombra ok è rimasta da prima sempre lazzo poligonale metto in sicurezza l'area che voglio colorare che voglio ovviamente modificare attenzione a non fare troppi click veloci altrimenti si chiude magari mentre stiamo facendo il tracciato quindi anche qui l'az timbro clone ok campioniamo una parte di rosa e la andiamo a spalmare io posso campionare anche una parte qui che è totalmente lontana ma se più o meno a livello di colore ci siamo il risultato che otterrò sarà comunque più o meno veritiero deseleziona torno indietro e voilà abbiamo ottenuto anche in questo caso un bellissimo risultato quindi ricapitolando abbiamo visto come togliere una papera ok da uno sfondo più o meno semplice quindi questo è l'esempio semplice dove abbiamo uno sfondo e un elemento quindi molto semplice come togliere un cane in questo caso un cagnolino dove c'era davanti un ostacolo un altro cagnolino e come togliere appunto una persona da una foto che andava appunto a contrastarsi a intersegarsi con un'altra persona come nel nostro caso con la gamba insomma gli strumenti che abbiamo usato sono tre quindi timbro clone per fare questa operazione di prendi il colore e lo porto da un'altra parte andando a togliere appunto elementi dopo di che abbiamo usato il lazzo poligonale per andare a mettere in evidenza o meglio a mettere in sicurezza l'area e basta attenzionamento vabbè lo zoom avanti e indietro tutto qua buon divertimento fammi sapere come ti trovi con questi strumenti di photoshop e se ti è piaciuto il video ovviamente lascia un bellissimo like e iscriviti al canale anche per non perdere i prossimi appuntamenti noi ovviamente ci vediamo al prossimo video e iscriviti al canale